Ed eccoci qua, oggi nuovissima opportunità di guadagno come avere Binance Coin totalmente gratuita la criptomoneta ovviamente di Binance un sito veramente ottimo, super pagante ragazzi con il mining integrato, con il crypto, con i fauci integrato veramente super super interessante mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un mi piace se volete altri video di questo genere e nulla ragazzi, andiamo a analizzare questo fantastico sito il sito in questione si chiama freebinance.coin è un sito appunto di fauci e di mining all'interno uno dei siti migliori in assoluto nel mercato di oggi nelle cripto per guadagnare in modo gratuito attraverso questa piattaforma una piattaforma di ricompense per criptomonete in rapida scelta ragazzi di crescita per i lievi veloci c'è un programma di riferimento un sistema livello, più livelli su questo sito più guadagni ci sono un sacco di offerte connessione sicure i membri sono già 68.000 i BNB ritirati sono già 15 BNB ritirati 41.670 aprile dunque ragazzi il sito è veramente nuovissimo il sito è super pagante ovviamente ho avuto i riscontri che mi hanno consigliato quando arriverò io al pagamento dunque lo faccio vedere ne andiamo a analizzare allora perché ce n'è veramente un sacco da parlare di questo sito il sito web in questione ragazzi cosa dovete fare? il link è in descrizione qui in basso attraverso il mio link che trovate qui in basso attraverso il link che trovate nel nostro gruppo Telegram nel mio gruppo Telegram riceverete questa pagina basta andare in alto a destra registrazione, mail, password, tutto il resto e siete a posto una volta che siete dentro praticamente andate sulla dashboard la dashboard si presenta così questi ragazzi sono i BNB ufficiali che ho fatto esattamente in giro di 4-5 minuti questa energia che andremo a vedere che è importantissima l'energia questo ragazzi i pagamenti che ho ricevuto ovviamente nulla e questi sono i livelli più ovviamente vai in questo sito e più che ragazzi livelli più che guadagni questo sono i totali depositi e tu dà riferimento nel referral link allora come puoi guadagnare attraverso questo sito web? molto semplicemente vai su Earn Binance Coin se andate su Earn Binance Coin semplicemente ci sono queste 6 offerte i fauci ragazzi sono quelli più semplici da fare praticamente ricevi il 30% in più del claim appunto che c'è il bonus attivo anche in questi giorni praticamente fai così fai non sono umano digiti la digitura che c'è scritto qua ovviamente ci vuole un secondo fai prossimo fai 3 volte questa digitura 0.85FA fai così fai verifica fai claim now e sei a posto questo ragazzi oltre a dare esattamente lo vedete avevo 100 pass hanno dato i 95 satoshi in giro di 10 minuti ogni 10 minuti potete rifare la stessa cosa in più ragazzi oltre a questo vi danno l'energia ricordate questa energia che dopo vedrete delle belle oltre a queste ci sono queste un sacco di offerte queste altre offerte qua andiamo ad analizzare tutte queste molto semplici vai a vedere l'offerta stai 10 secondi su questo sito web stai così 10 secondi loro ti accredino esattamente 65 satoshi queste offerte che vedete tutti i giorni verranno ogni giorno rimesse rifresciate vedete fate qui non sono un essere umano anche qui ragazzi stessa cosa ovviamente dovete essere precisi a mettere i dati fate questo fate questo fate questo app fate prossimo questo che roba questo vi facciamo le doppie nette fate verifica confer può essere sbagliato qualche tasto non importa tanto eccoli qua dovremmo accreditati sul portafoglio vediamo un po' se ci sono eccoli qua ero 254 sono 319 questo facilissimo qui ragazzi anche questo è buono non vi farò vedere tutti il video diventa lunghissimo questo ragazzi basta semplicemente visitare la pagina vi danno 283 bnb più un'energia vi danno un sacco di energia ragazzi qui ci sono le offerte qui ci sono quindi praticamente questo tutto è offerte offerte ragazzi qui c'è le fralink qui c'è un giochino che non serve più di tanto e nulla questo è sito ragazzi in pochi minuti fate esattamente un sacco di bnb totalmente gratis e in più ragazzi il reparto più interessante facendo praticamente facendo il fauchet ok andiamo su fa facendo il fauchet facendo l'offert tutto il resto voi avete questo questa energia totalmente gratis cosa fare di questa energia andare sulla sezione mining ok nella sezione mining ragazzi accumulate energia sia per i fauchet che per il mining io attualmente ho zero energia sul mining cosa potrei fare con questi zero energia ovviamente nulla perché c'è uno zero come vedete ragazzi attraverso il mining io ho accumulato in 3 minuti 2.71 Egahertz di potenza e al giorno ho stimata questi satoshi al giorno 28 satoshi in maniera totalmente gratuita ragazzi ovviamente in giro di 3 minuti pensate se ci state chiesto questo sito fate il mining gratuito di Binance Coin e potete minare esattamente i Binance totalmente gratis senza più mettere piede su questa piattaforma come avere esattamente questa energia basta andare su Earn Energy molto semplicemente ragazzi fate non solo robot vi da 5 energia totalmente gratis fate Claim Energy andiamo un po' e ha fatto come si dice va dato la 5 energia totalmente gratuita ogni 2 minuti potete rifarla ogni 2 minuti ragazzi quindi riandate sul vostro mining ho 5 energia qui potete scegliere quanta buttare ovviamente ci sono solo 5 e ne butto 5 esattamente con 5 energia me la prese e non c'ho più 2.71 c'ho esattamente 4.81 Egahertz estimato ogni 12 ore mi sembra fa 50 satoshi invece di 28 assurdo ragazzi assurdo se uno ci sta avviato parecchio ci guadagna un sacco di soldini qui c'è la finanza che potete ovviamente fare il deposito ovviamente non me lo consiglio ma di depositare su queste piattaforme e potete fare il ritiro come fare il ritiro questo reparto più interessante comunque dove bisogna guadagnare soldi per fare il ritiro dovete andare nella sezione di withdrawl io l'ho già fatto non me lo posso far vedere nella sezione withdrawl praticamente vi chiederà qui a sinistra vi chiederà ragazzi la password quindi non dovete fare nulla devi cambiare password ma non mi interessa a destra invece vi chiederà esattamente di mettere la vostra password ed email di faucet quindi no aspetta sbagliato dovete mettere l'email del vostro faucet quello che avete sul vostro faucet invece la password dovete mettere ovviamente del vostro sito web questo qua di free binance non di faucet perché sennò mi rubano dati fate password di free binance ed email di di faucet pay speriamo che sono spiegato una volta fatto questo poi andate nella sezione andate nella sezione withdrawl nella sezione withdrawl ovviamente ragazzi in un pochissimo tempo ho fatto a 0.000 300 bnb di balance coin le feed e ritiro sono talmente gratis fate così ovviamente il mezzo di pagamento è solo faucet quindi ovviamente dovete avere faucet fate withdrawl e praticamente una volta arrivate a 0.001 bnb ritirate ragazzi che ci vuole veramente io in poco tempo ho fatto 319 quanti sono 3 in giro di penso di 2 3 ore dunque se ci state un po' dietro fate tutto in maniera totalmente gratuita questi bnb ok lo riceverete su faucet poi su faucet potete metterli su coinbase dove riguarda voi comunque trasferirli o tenerli su faucet pay allora ragazzi spero che il video vi è piaciuto secondo me uno dei migliori siti che vi dà veramente tanti soldini in più ragazzi uno dei pochi faucet che c'è un mining veramente facile da usare viene totalmente gratis grazie se vi è seguito mi raccomando lasciate un bel like e iscrizione campanella se avete dubbi iscrivetevi su gruppo terram e ci vediamo al prossimo video ci ciao